Anche la città di Bitonto attiva i suoi primi passi verso la mobilità sostenibile e questa l'importante iniziativa targata a Comuni di Bitonto Conf Commercio ASV che prende il nome di Bitonto Circolare, cominciata come tappa zero qualche giorno fa ma che troverà la massima espressione nei prossimi giorni. Si cerca in ogni modo di dare la possibilità ai cittadini di utilizzare più spesso i mezzi pubblici ed evitare inutili ingorghi nel traffico, sviluppare in l'esponenziale le attività a livello di commercio e implementare un sistema che consente spostamenti più sostenibili riducendo le emissioni di CO2 per rendere le città più vivibili. Proviamo ad abituare i cittadini ad usare anche le circolari, circolari che molto spesso viaggiano a vuoto, circolari che non sempre i cittadini conoscono i percorsi, conoscono le fermate. È una start-up, è un punto di partenza ma abbiamo ben in mente quali devono essere i passaggi successivi. Passaggi successivi che andranno a migliorare sempre di più sia sul piano comunicativo che proprio sul piano funzionale strutturale del servizio e del trasporto pubblico locale. Ho in mente anche l'implementazione delle paline esterne che andranno a individuare i percorsi, a suggerire gli orari e eventualmente anche a indicare eventuali ritardi. È un progetto sulle paline che abbiamo messo in atto già da qualche mese e che sicuramente nei prossimi due mesi vedrà la luce. Consapevolezza e cultura nella promozione dell'iniziativa. Queste le parole della Presidente della Confcommercio di Bitonto, Cristina Lovascio, che più volte ha sottolineato come sia necessario coinvolgere sia la popolazione che le attività commerciali nello sviluppo della mobilità sostenibile, che vedrà la presenza di due linee bus, una verde e una rossa, che copriranno i centri nevralgici della città. Come delegazione territoriale abbiamo ovviamente ben chiara la fotografia lucida di quella che è la situazione economica e logistica e legata ai servizi degli attori commerciali della città. Servizi che, sempre osservando il territorio, già sono esistenti sul territorio, vanno soltanto implementati e un attimino spinti affinché si possa migliorare nel loro utilizzo. Un progetto dunque che ridefinisce i percorsi e le fermate dei mezzi pubblici, che ottimizza l'interazione fra attività commerciali, logistica e trasporto pubblico e che mira anche ad implementare una comunicazione più efficace, con la distribuzione anche di mappe con percorsi e fermate e individuazione delle aree di parcheggio. Grazie.